C'è un segreto che molti non conoscono. L'uomo pensa che la sua potenza stia nella parte genitale, nella qualità della sua erezione che dimostri così la sua virilità e forza, e ci sono pratiche ed esercizi anche per potenziare e migliorare la qualità dell'erezione e la sua forza, però il segreto non è questo. C'è un organo che svolge una funzione fondamentale affinché il pene funzioni e mostri tutta la sua potenza. È il cuore. Tanto a livello fisico quanto a livello energetico è lui che comanda e dirige. Il cuore a livello fisico pompa letteralmente sangue nel pene e il cuore gestisce e comunica costantemente con il sistema nervoso. Un cuore calmo, aperto, in pace permette di far funzionare in armonia tutto l'organismo. Quanto più siamo in connessione quindi con il nostro cuore, meno tiranni saremo con il nostro corpo. Perché è qui che ci ritroviamo. Tutta questa fissazione con il pene, quando la verità è che un uomo rilassato, che ama, con il cuore aperto, cosciente dei suoi sentimenti ed emozioni, potenzierà notevolmente la sua forza e la sua erezione. Quanto più amore c'è, quanto più forte e potente sarà la nostra erezione. E non è solo grazie all'amore che arriva da fuori. E l'amore che sentiamo dentro verso di noi e verso il nostro corpo, che ci permette di coltivare la vera potenza. Non è più controllata, è semplicemente spontanea. Perché sorge da dentro.